buongiorno a tutti allora è finita la partita delle 12 30 quindi facciamo un riepilogo delle cinque partite che si sono giocate fino adesso partendo da benevento juventus 4 a 2 con tutte le polemiche che ci sono state per appunto il rigore che forse c'era forse non c'era va bene le solite cose che succedono sempre poi c'era il rigore per il benevento non dato anche le polemiche su polemiche però varo non varano deciso così la juve ne ha fatti 4 il benevento ne ha fatti due quello è il risultato finale quindi preso perché avevo messo due ma non era difficile vediamo alla prima sorpresa di giornata che è la vittoria della fiorentina sulla roma con una roma che ha preso pali traverse occasioni parate del portiere eccetera però ha perso 2 a 0 e quindi un regalino si pensava a noi ma dopo ne parleremo e quindi sbagliatissima perché ho messo l'uno spalla atalanta è finita 1 a 1 e quella l'ho presa in pieno perché avevo anche detto probabile che possa finire 1 a 1 ho messo l'ix quindi spalla atalanta pareggio spal che si porta a più 3 sul crotone 27 a 24 però il crotone deve ancora giocare col bologna il derby di genoa è finito 0 a 0 e me non l'ho visto perché ero fuori con un amico poi c'era un compleanno dentro nel bar dove eravamo quindi non riuscivamo neanche entrare siamo rimasti fuori a chiacchierare c'erano i tavolini quindi non l'ho visto è finita 0 a 0 comunque anche lì avevo messo lì se l'ho presa e poi veniamo alle dolenti note che poi non sono neanche dolenti note perché perdere 1 a 0 col torino dopo aver fatto 15 calci d'angolo una traversa un palo almeno stai parate di sirigo una più bella dell'altra contro un tiro al terzo anello un'occasione di non so se dei silvestri o chi per esso in mezza rovesciata al cinquantesimo cinquantacinquesimo che andanovi ce l'ha all'alzata un'altra occasione di gli haici e poi ha insegnato quattro occasioni ha fatto il torno avremo avuto 12 10 12 non lo so cioè al torne se la palla non vuole entrare non vuole entrare il palo clamoroso di rafigna è stato clamoroso colpo di testa di perci vabbè ha scheggiato la traversa poteva essere comunque siamo a 21 pali noi siamo fortunati però abbiamo preso 21 pali ha ricordato praticamente la partita di ieri con la fiorentina della roma la roma non meritava di perdere ha perso oggi l'inter non meritava probabilmente non meritava neanche di vincere però non meritava di perdere sicuramente ha viste le occasioni avute visto quello che hanno fatto visto come hanno giocato ripeto il torino ha sfruttato l'unico errore l'unica palla ha persa il solito rimpallino con perisic che la tocca e la palla finisce al a de silvestre se non sbaglio che l'ha messa in mezzo per gli haici che era lì da solo d'ambrosio ha provato in scivolata ad allontanarla non ci ha riuscito su un errore d'ambrosio che era in mezzo all'aria e gli haici bello solo l'ha messa dentro però per il resto il torino ha pensato solo a difendersi cioè non è che ha creato chissà che cosa ripeto le occasioni che ho visto erano quelle non ce ne sono altre noi cross su cross un salvataggio anche di burdisso chi per esso da su gagliardini a mezzo metro dalla porta sul colpo di testa di miranda certo abbiamo giocato poi purtroppo se la palla non vuole entrare non vuole entrare io l'avevo detto quando ho visto perdere la roma ho detto attenzione che oggi va a finire che anche noi faremo una brutta fine perché ogni volta che abbiamo l'occasione succede qualcosa che ce lo impedisce per quanto riguarda i cardi un tiro al volo che si rigoglia tolto un passaggio a candreva che l'ha messo lì per tirare gli ha tirato ad ossa sirico comunque parata del portiere un altro colpo di testa miranda che era a tre metri dalla porta l'ha tirata fuori ma forse era in fuori gioco però comunque lui l'ha messa lì di testa precisa quindi il suo l'ha fatto belotti ha preso due tre calci di punizione ma nulla più non ha fatto niente non ha tirato un peso ne abbia neanche tirato quindi non venite a dire che belotti è un fenomeno quindi cioè c'è poco da fare se i carni le palle arrivano lui qualcosa fa l'unico errore a cui possiamo imputarli è quel tiro al volo che ha provato ma non era semplice non è riuscito a prenderla bene ma per il resto altri palloni non ne ha avuti ha fatto quello che ha potuto ha fatto quello che in base a quello che gli hanno dato sappiamo benissimo le caratteristiche che ha e ripeto io in giro giocatori prendibili forti come lui non ne vedo poi va beh qualcuno dice che è meglio di sua nonna è meglio sua nonna che lui sono pareri ci mancherebbe ognuno c'è gli a e se li tiene io e i miei e me li tengono non pretendo che gli altri dicano ah no sono d'accordo non sono d'accordo non mi interessa sono i miei me li tengo e non cambi idea poi se andrà via vedremo chi arriverà e se sarà l'altezza o meno io spero di noi di ripartire l'anno prossimo con la difesa del riscrivia spero canse lo da una parte asamo a odno d'ambrosio dall'altra il centrocampo spero di riuscire a tenere raffiglia poi se porta valere vessino vanno via spero di prenderne un paio magari un pochettino più bravi come sento parlare gli esterni magari l'anno prossimo caramu avrà un po più di spazio tenere sempre per esice candela se per esice dovesse partire vedremo chi arriverà al suo posto se chiesa o chi per esso vedremo berardi o qualcun altro non lo so però ripeto la squadra c'è la stanno costruendo bene oggi è andata è andata male ma non puoi imputarli nulla nella squadra dei giocatori perché si sono impegnati tutti a me andremo a bergamo senza brozovic e senza miranda vedremo cosa succederà forse l'unico errore che può imputare a spalletti di non aver fatto giocare raffiglia dal primo minuto e poi eventualmente buttare dentro borca valera ha voluto invertire e probabilmente raffiglia entrato un po troppo tardi per comunque ha preso un palo clamoroso ahimè è andata così adesso vedremo la lazio con l'udinese cosa farà e ahimè settimana prossima c'è lazio juve nazio roma o roma lazio quindi potrebbero pareggiare potrebbe vincere una delle due quindi in ogni caso teoricamente potremmo approfittarne ma andiamo a bergamo con l'atalanta senza miranda e senza brozovic e vedremo cosa succederà ciao